Cari amici ed amiche di Diritto al Punto, benvenuti a questa nuova puntata. Oggi riprendiamo un tema che è a noi molto caro e che abbiamo anche già affrontato nelle passate stagioni che è la tutela del diritto dell'ambiente e per farlo abbiamo invitato con noi l'Avvocato Russo Valeria e l'Avvocato Domenico Aiello che sono responsabili della tutela giuridica della natura del WWF Italia. Diamo quindi il benvenuto ai nostri ospiti e li ringraziamo per essere qui con noi oggi. Grazie e benvenuti. Benvenuti, grazie, bentrovati. Allora prima di iniziare, chiari videoascoltatori, come al solito lo ripetiamo, vi ricordo che come tutte le puntate con ospiti anche questa sarà in onda sul nostro canale YouTube al quale come sempre vi raccomandiamo di iscrivervi e di lasciare un like o un commento qui sotto se il video sarà di vostro eh gradimento. Ma non perdiamo ulteriore tempo e eh bando alle ciance come si dice in Toscana partiamo con la prima domanda. Allora io volevo subito domandare all'Avvocato Aiello se poteva illustrare i nostri ascoltatori come è nato, qual è un po' la storia del WWF e qual è la missione che l'associazione persegue. Sì, il WWF è nato nel 1961 a livello internazionale, la sua sede in Svizzera, mentre in Italia è nato nel 1966. Sono date molto importanti perché come ben sapete il diritto dell'ambiente a livello internazionale nasce negli anni settanta con la conferenza di Stoccolma, quindi il WWF è precursore di tutto quel movimento che ha portato l'umanità a rendersi conto che è necessaria una tutela giuridica della natura e dell'ambiente. Quindi eh nasce e si sviluppa eh inizialmente prendendo eh spunto da alcuni problemi specifici e poi inizia ad intraprendere campagne sempre più ampie. Qual è l'obiettivo del WWF Italia? È fare in modo che l'uomo possa vivere in armonia con la natura. Eh quindi eh questa convivenza fra l'uomo e natura eh è il centro della nostra attività. Non guardiamo solo agli animali o solo alla natura, ma riconosciamo la presenza dell'uomo, la necessità che appunto si attui eh un concetto di convivenza pacifica che possa far progredire in maniera eh diciamo positiva sia l'uomo e sia la natura eh che lo ospita. Ecco allora io prendendo proprio spunto da quanto ci ha detto l'avvocato Aiello adesso vorrei che spiegaste forse l'avvocato russo eh vuole prendere la parola se spiegaste appunto ai nostri ascoltatori chi sono gli avvocati del Panda, di cosa si occupano e soprattutto se e come è possibile entrare a far parte della vostra comunità. Ma certo ehm gli avvocati del Panda sono avvocati sparsi in tutta Italia che si occupano di rappresentare, difendere l'associazione non soltanto nelle sedi giurisdizionali ma anche fornendo un supporto legale sia a livello a livello nazionale che a livello periferico e il WWF Italia se ne avvale proprio al fine di perseguire i suoi obiettivi di tutela dell'ambiente ma anche di biodiversità. Per diventare avvocato del Panda non bisogna fare altro che compilare il nostro form online sul nostro sito web così da poter essere poi successivamente contattati per spiegare loro le modalità di collaborazione pro bono con l'associazione. E una volta creata poi una sinergia saranno inseriti in un network che prevede anche incontri periodici di formazione e di socializzazione. Ad esempio il 5 novembre di quest'anno abbiamo organizzato l'incontro degli avvocati del Panda presso la nostra sede a Roma così da poter rafforzare la nostra rete, la nostra valorosa rete degli avvocati direi. Eccomi e riallacciandomi un po' diciamo a quanto ci avete un po' già raccontato vorrei magari che parlaste ai nostri ascoltatori di un caso che gli avvocati del Panda hanno magari seguito ancora visti a volte i tempi della giustizia stanno ancora seguendo e questo anche perché cari Domenico e Valeria non so se già ci seguite però il nostro podcast è molto tra i propri follower anche tanti studenti addirittura liceali o già studenti di giurisprudenza che spesso denunciano un po' un divario fra il mondo dell'università e poi quello che è un po' la dinamica concreta del mondo lavorativo e quindi noi cerchiamo anche di aiutarli per capire quanto è vasta la gamma del diritto e quanti settori ciascuno di noi può andare ad approfondire quindi magari ecco raccontando anche di una vostra esperienza concreta questo li potrebbe aiutare a trovare la loro strada. sì allora molto interessante tutto ciò anche perché noi ci occupiamo tantissimo di formazione e di orientamento e essendo anche noi avvocati sappiamo cosa vuol dire il giorno dopo rispetto a quello in cui si ottiene questa cognata laurea posso dare innanzitutto un consiglio prima di rispondere alla domanda se permettete il consiglio che a mio giudizio il diritto dell'ambiente ancora tanto da dare anche a livello occupazionale il diritto dell'ambiente è vastissimo molto tecnico e c'è bisogno di avvocati preparati nelle varie diciamo poi in base alle nostre predisposizioni magari capire qual è la propria strada sia io sia valeria abbiamo fatto un master in diritto dell'ambiente dopo la laurea e questo sicuramente ci è servito anche da questo punto di vista quindi questo è il mio consiglio che do alle colleghe e colleghi che ci ascoltano. È difficile trovare un caso singolo di cui ci siamo occupati come WWF Italia posso dire senza timore di essere tacciato per eccessivamente come dire per elogiare eccessivamente la mia associazione ma WWF Italia ha contribuito sicuramente a scrivere la tutela dell'ambiente a livello giuridico in Italia lo ha fatto nel corso degli anni grazie alle varie costituzioni di parte civile nei processi penali più importanti che hanno a che fare con l'inquinamento l'abusivismo edilizio o i crimini contro la natura contro gli animali gli incendi e ne posso citare alcuni storici noi ci siamo occupati ad esempio di ILVA ci occupiamo ancora siamo ancora oggi parte civile nel nel processo ILVA abbiamo processi per esempio quello che diciamo è scaturito dalla individuazione nel sangue di molti cittadini del Veneto di FAS che è una componente chimica eh che deriva da alcuni sversamenti da alcune eh aziende eh nelle acque appunto che poi eh i cittadini hanno hanno bevuto anche i bambini eh ma ci siamo occupati storicamente anche di punta campanella quindi degli economostri che poi sono stati abbattuti grazie alla nostra attività più recentemente in tema di biodiversità per esempio gli orsi in Trentino oppure eh sulla caccia noi siamo molto attivi ehm a livello amministrativo infatti il nostro diciamo ufficio lavora tantissimo su sui profili penali e amministrativi ehm e quindi siamo molto attivi e siamo riusciti nel corso del tempo per esempio ad escludere da tra le specie cacciabili alcune specie eh in declino come il moriglione la pavoncella eccetera eh e poi una cosa molto interessante tutta la nostra attività che facciamo a livello costituzionale perché come ben sapete noi non possiamo entrare direttamente nel processo costituzionale però eh attraverso degli esposti che eh trasmettiamo al Consiglio dei Ministri eh riusciamo ad evidenziare eh appunto al Consiglio dei Ministri i casi in cui alcune leggi regionali eh si pongono in violazione con la Costituzione eh e questo ci ha portato molto spesso a a ottenere risultati importanti di dichiarazione di legittimità costituzionale. Abbiamo fatto e qui chiudo eh un piccolo eh diciamo una piccola ricerca abbiamo visto che dal duemila ehm uno in poi quindi eh l'indomani della riforma del titolo quinto della Costituzione eh il la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimi eh più di eh diciamo una media di due ehm due illegittimità costituzionali all'anno per violazione esclusivamente della legge sulla tutela della fauna selvatica e spesso queste illegittimità nascono proprio dalla nostra attività quindi questo è un piccolo spaccato poi c'è tutta l'attività istituzionale che facciamo eh e che serve a chiudere la filiera quindi una filiera che parte dalla eh diciamo eh formazione della legge arriva alla sua applicazione e poi arriva anche nel pratico grazie alle nostre guardie volontarie che ogni giorno tutelano la natura sul campo. Beh sì c'è un radicamento nel territorio veramente efficace e forte lo anche noi indirettamente immagino voi che siate protagonisti di tutto questo percorso. Colgo l'occasione di questa riflessione questo tuo intervento molto interessante mi è venuta una domanda. Giustamente mh si parla molto di tutela dell'ambiente adesso quindi è un argomento su cui si viene sensibilizzati sempre di più forse grazie anche all'utilizzo dei social media insomma chi più ne ha più ne metta. Una curiosità personale quanto mh effettivamente il parlare più di ambiente, di tutela dell'ambiente può aver facilitato anche voi come legali all'interno di un'associazione ambientale? Sicuramente parlare di ambiente importantissimo. Quello che però noi facciamo è diciamo partire da un presupposto scientifico molto forte. Anche proprio ieri mi sono trovato due giorni fa mi sono trovato a parlare in un convegno ospitato dall'ordine degli avvocati di Salerno sul rapporto tra ambiente tra diritto e scienza. Anche in questo caso la nostra attività è un'attività giuridica ma fortemente legata all'aspetto scientifico. Quindi questo per dire che parlare di ambiente non è sufficiente, è importantissimo ma non è sufficiente. Ora siamo ad un livello superiore perché vediamo anche che tante diciamo imprese eccetera parlano di ambiente in pubblicità si sente sempre la parola ambiente tutti si dicono green. Quello che manca oggi è una diciamo uno step in più quindi la conoscenza la conoscenza dei dettagli degli impatti spesso noi parliamo di ambiente e ci poniamo rispetto all'ambiente in maniera molto soggettiva quindi in base a quelle che sono le nostre idee di giusto o sbagliato invece invece ciò che è giusto se sbagliato ce lo dice già la natura che ha delle regole ben chiare e noi come giuristi siamo chiamati a tradurre le regole nella natura nelle regole dell'uomo quindi a declinare le regole dell'uomo nelle regole della natura quindi questa è un'attività molto molto importante e tutti noi siamo chiamati a farlo sempre tenendo come stella polare questo rapporto fra scienza e diritto. Bene prima di fare l'ultima domanda mi permetterete una riflessione anche per tutti questi belli spunti che sono venuti fuori nella questa puntata perché forse proprio nell'ottica di come diceva Cristina Domenico ma anche Valeria di come posso dire influenzare ancora di più le nuove generazioni avere a cuore anche soprattutto la tutela dell'ambiente e per chi vuole essere un operatore del diritto la tutela del diritto ambientale spero veramente che anche i percorsi di studi che tutti noi avremmo fatto nelle facoltà italiane continuino a dare sempre più importanza a questa branca del diritto perché in realtà sì alcune facoltà hanno iniziato a introdurre degli esami facoltativi più specifici però è proprio un settore che rimane sempre un po' oscuro negli anni dello studio che sono anche quelli dove si va un po' già incardinare no a radicare quello che sarà poi l'indirizzo futuro della professione quindi penso che per tutti gli operatori per chi diventerà giudice per chi diventerà avvocato per chi continuerà la carriera universitaria è importante eradicare nelle future generazioni questo settore del diritto ambientale in nome diritto al punto insomma ci impegneremo se voi vorrete aiutarci in questo a diffondere il messaggio agli utenti però vorrei chiudere con l'ultima domanda e come vi ho detto Domenico e Valeria sono responsabili della tutela giuridica della natura del WWF ma in particolare Domenico ricopre anche il ruolo di Project Officer Life Swipe che è un progetto di cui vorrei che ci parlasse sì anche il progetto Swipe rientra perfettamente in quello che stiamo dicendo è un progetto finanziato dalla Commissione Europea che con questo programma spesso cerca anche di pungolare gli stati un po' distratti rispetto a determinate tematiche in questo caso ci occupiamo di tutela della fauna selvatica quindi di contrasto agli illeciti contro la fauna selvatica anche la flora in realtà quindi l'uccisione il traffico eccetera ma lo facciamo attraverso un approccio diverso dal solito c'è una interlocuzione diretta con le forze di polizia ma soprattutto con la magistratura noi abbiamo una serie di carenze in Italia perché innanzitutto sottovalutiamo tutto quello che sta attorno ai crimini contro la fauna selvatica pensiamo che uccidere un orso, un lupo o un'aquila sia solo una follia di qualcuno e invece spesso dietro si cellano dei traffici, dei movimenti di denaro molto molto sostanziosi e anche delle ripercussioni oltre che all'economia anche alla salute perché spesso gira carne diciamo non controllata e abbiamo visto col covid che cosa voglia dire scherzare con la fauna selvatica ahimè quello che manca proprio la consapevolezza e questa consapevolezza manca anche nella magistratura spesso perché proprio come dicevi tu Benedetta c'è una sottovalutazione soprattutto in campo giuridico delle tematiche ambientali vi dico che la magistratura oggi nel corso della sua storia non ha ancora mai visto un corso di formazione che riguarda i crimini contro la fauna selvatica perché si tratta soprattutto di fatti specie contravenzionali quindi reati di serie b che vengono valutati come tali e non sulla base dell'impatto che la condotta illecita arreca al bene giuridico tutelato per parlare nella nostra lingua quindi quello che facciamo con questo progetto è innanzitutto una raccolta dati che abbiamo già fatto abbiamo pubblicato un report per fare una fotografia della situazione un progetto che è presente in dodici paesi europei non sono in italia e in secondo luogo l'attività più importante si svolgerà ad aprile e sarà un'attività di formazione della magistratura quindi noi proveremo a a convocare i magistrati volenterosi d'italia curiosi anche di conoscere questa materia e faremo un'analisi un approccio sia giuridico ma anche come dicevo prima di relazione fra scienza e diritto quindi cercheremo di far capire a chi deve applicare le norme qual è l'impatto di queste condotte in concreto in modo tale che si possa arrivare poi ad un'evoluzione e portare il legislatore stesso a diciamo fornire anche agli operatori del diritto degli strumenti realmente efficaci perché oggi non è così i livelli di reiterazione dei reati sono altissimi quindi dobbiamo agire e noi cerchiamo di farlo anche in questo modo ed è sicuramente molto apprezzabile e vi seguiremo in tutti questi bellissimi progetti e quindi vogliamo già l'occasione per rinvitarvi successivamente a questo incontro e per sapere un attimino quali sono appunto le nuove basi questi nuovi progetti che noi assolutamente ci auguriamo che possano dare i risultati sperati volevo farvi un'ultima domanda anche a valeria ma anche a domenico ecco cosa vi ha spinto un po già ce l'avete detto inizialmente però cosa vi ha spinto ecco a diventare avvocati del panda ma valeria e dicevo tutto muove da una passione che quella di collaborare con dei professionisti con dei tecnici che ti aiutano anche a comprendere delle norme di diritto ambientale molto settoriale molto complesse e il vf da l'occasione a dei giovani professionisti più esperti meno esperti di approfondire delle tematiche molto settoriali e che hanno dando ad ognuno di noi l'occasione di poter tutelare la natura per il tramite della loro professione bene penso sia un messaggio bellissimo anche perché il nostro lavoro è come quello di chi loro che svolgono un lavoro intellettuale di professione intellettuale è spinto fondamentalmente dalla passione perché sono lavori di sacrificio e quindi la passione è quello che nutre tutti noi la mattina anche quando le cose magari non vanno come speriamo a dire vabbè però questo mi sta portando avanti la mia passione quindi devo credere in quello che faccio e se unisco anche l'ideale in cui credo profondamente come la tutela della natura e dell'ambiente perché poi è il mondo in cui vivremo e vivranno le generazioni future quindi è la cosa più bella un messaggio veramente bellissimo allora cari ascoltatori siamo giunti alla fine di questa puntata come al solito e come è il motto di diritto al punto spero che abbiate imparato anche con voi anche voi qualcosa di nuovo con noi insieme come sempre ovviamente lasciate like commento al video qui sotto oppure per seguirci seguiteci sui nostri social network alle nostre pagine che sono facebook instagram anche tiktok non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale youtube e se avete domande scriveteci alle nostre mail info chiocciola diritto al punto punto se avete domande iscriveteci appunto ed eventualmente rivolgeremo i quesiti anche direttamente a domenico o valeria qualora non riuscissimo a dare risposte esaustive ringrazio tantissimi nostri ospiti che sicuramente interpelleremo per nuovi approfondimenti e vi lascio alla nuova sigla ciao a tutti e grazie ancora da valeria domenico ciao alla prossima puntata